Finisce in goleada il Casinò Granata, regala un pocherissimo agli oltre 1500 tifosi presenti al purificato di fondi. Già retrocesso, una doppietta di ginestra nel primo tempo, le reti di Molinari e Guazzo nella ripresa, intervallate dal gol della bandiera di Alfredo Romano, prima che un autogol di Marotta fissasse il risultato sul 5-1. Perrone conferma per la prima volta quest'anno lo stesso 11 che aveva abbattuto il Melfi domenica scorsa allo stadio Arechi. Si avverte l'assenza in tribuna di Lotito e Mezzaroma, si sente invece la presenza pesante di Angelo Mariano Fabiani. L'ex DG è stato accostato da tempo ad un ritorno all'ombra dell'Arechi. Il settore ospiti è stracolmo, la torsita Granata espone uno striscione in memoria del Siberiano con tanto di piccola, bellissima coreografia. La Serenitana ci mette 20 minuti per chiudere virtualmente il match. Ginestra si dimostra subito in palla, passano 9 minuti ed il Cobra subisce fallo al limite dell'area. Da quella zona sa di avere messo spesso la mattonella e la sua conclusione a giro batte Gasparri. La reazione del Fondi è sterile. Il solo Paganini prova a fare qualcosa mentre Giannusa non è al top e Tamasi si limita alla fase di interdizione. Al diciannovesimo il Cobra morde per la seconda volta, stavolta con un'insuccata di testa da posizione ravvicinata su cross di Pitba. Partita virtualmente conclusa. Prima dell'intervallo si registra la defezione di Mancini, colpito duro da Tamasi. Al trentottesimo il genio ex Verona chiama il cambio al suo posto Capua. Nella ripresa Fratena, altro ex manda in campo Romano ed il Fondi si fa subito pericoloso. L'ex del Marcianise da 25 metri centra la traversa al terzo minuto del secondo tempo. La Salernitana però ha ancora fame. Corre il diciottesimo e Molinari cala il tris sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un facile appoggio di testa. Partita finita, niente affatto. C'è ancora tempo per Guazzo per entrare nel tabellino dei marcatori. Al ventitresimo Ginestra, ancora lui, guadagna palla a centrocampo e serve Guazzo in profondità. L'attaccante salta Gasparri in uscita avventata oltre che disperata ed appoggia comodamente in rete. Il Fondi ha un sussulto, ci il pensa il solito Alfredo Romano a regalare il gol della bandiera alla cenerentola del torneo. Alla mezz'ora il centrocampista ex Marcianise elude con un tocco di fido la retroguardia Granata e si ritrova tu per tu con Dazzi, infilandolo sul secondo palo. Prima della fine c'è spazio per il pocherissimo regalato da Marotta al 42esimo. Un cross di Piva, infatti, costringe il giovane difensore alla cappellata nel tentativo di anticipare Guazzo. Infatti, beffa anche il suo portiere. La Serenitana chiude con un pocherissimo ed aspetta soltanto l'aritmetica che potrebbe arrivare domani pomeriggio nel caso in cui il Chieti non batte la Vigor Lamezia in casa. In ogni caso, domenica prossima, si festeggerà in casa allo Stadio Arecchi con il Poggi Bonzi, il ritorno in prima divisione. Grazie a tutti.